Che cosa bellissima, uno spot promozionale per la Puglia fatta da un pugliese, da uno che ha fatto sempre i film in Puglia. Mi sembra una storia d'amore pazzesca, incredibile, per cui è una cosa bellissima. E in arrivo il nuovo spot di Puglia promozione che quest'anno porta la firma del regista pugliese Sergio Rubini. Le riprese, che hanno portato un'imponente carovana del cinema in tutte le province del Tacco, si sono appena concluse. Anche se lo storytelling è coperto d'assoluto riservo, per Sergio Rubini è stata una grande responsabilità girare uno spot che rendesse al meglio la nostra regione. Ho scoperto, racconta, dei posti delle Puglie che non conoscevo, eppure l'ho girata in lungo e largo, prima da pugliese e poi da cineasta, ovunque l'accoglienza è stata fantastica. Nelle parole di Sergio Rubini era chiuso il senso profondo di questo spot, raccontare la Puglia non solo per mostrare le sue bellezze e l'unicità, ma per suscitare anche un sentimento. La Puglia, che si è distinta in Italia e in Europa nella campagna vaccinale, adesso ha voglia di rimettersi in gioco, in sicurezza per crescere ancora e raggiungere obiettivi più grandi, interviene il governatore Michele Emiliano. In assessorato, conclude il neoassessore al turismo Gianfranco Lopane, stiamo lavorando per supportare la ripresa e trovarci pronti alla prossima stagione turistica. Lo facciamo rivolgendo grande attenzione all'immenso valore identitario dei paesaggi, dell'arte e della cultura dei territori di tutte le province pugliesi.